Allora, l'ultima volta ce l'avevamo lasciati con un video sulla creatina dove facevamo il resoconto del contenuto di creatina all'interno dei cibi processati quindi le crocchette e gli umidi e all'interno invece dei cibi barf con relative derivazioni barf. Avevamo visto che c'erano delle differenze estremamente importanti da una parte dall'altra. I cibi processati erano poveri di creatina mentre i cibi barf quindi la carne diciamo cruda era assolutamente più ricca di creatina. Questo probabilmente è dovuto anche al metodo di processamento che avevamo visto perché avevamo visto che a 95 gradi la creatina comincia a degradarsi. Detto questo avevamo lasciato il video e ci eravamo ripromessi di farne uno per contemplare le quantità giuste, le dosi giuste di creatina da inserire nella dieta dei nostri cani che mangiano crocchette per massimizzare le loro prestazioni sportive in previsione di una gara. Per fare questo andiamo direttamente a vedere uno studio che è stato condotto sull'assorbimento di creatina da fonti esogene quindi da cloratina monohidrata e che valuta l'accumulo nel corpo, nel plasma e nel muscolo. In questo studio sono stati presi in considerazione quattro dosaggi di creatina differenti. Uno minimo da 0,38 mmol per kg di peso corporeo, due intermedi da 1,73 e da 0,56 mmol per kg di peso corporeo e un dosaggio massimo di circa 3 mmol per kg di peso corporeo, ovviamente tutti quanti i dosaggi assunti in cronico, quindi tutti i giorni. I risultati sono stati molto interessanti. Da una parte, come era prevedibile, il dosaggio maggiore ha dato il maggior incremento di creatina nel plasma e questo era abbastanza scontato, mentre non era assolutamente scontato il fatto che nel muscolo si accumunasse creatina in base alla concentrazione di creatina indotta. Infatti, lo studio ha mostrato che durante le biopsie effettuate a 14 a 28 giorni sui tessuti muscolari del cane, i cani che avevano assunto la minor quantità di creatina, quindi 0,38 mmol per kg di peso corporeo, avevano un quantitativo di creatina stoccata nel muscolo molto più alto rispetto ai cani che avevano preso le altre dosi, addirittura anche della dose maxi da 3,05 mmol per kg di peso corporeo. Inoltre, il valore massimo è stato raggiunto dopo 14 giorni, mentre al ventottesimo giorno si è visto regredire il valore di creatina accumulata, probabilmente perché il muscolo andava in saturazione e quindi poi veniva la creatina smaltita sotto forma di creatinina. Questo che indicazione ci dà? Ci dà l'indicazione molto importante che se stiamo preparando un evento sportivo, una gara sportiva, possiamo cominciare a pensare di introdurre la creatina 14 giorni prima dell'evento, in maniera che si arrivi il giorno dell'evento a concentrazioni massimali. Seconda cosa, la quantità più utile che dà i risultati maggiori in termini di accumulo di creatina nel muscolo è la dose da 0,38 mmol per kg di peso corporeo e quindi sarà quella che andremo a utilizzare per effettuare poi l'integrazione tramite fonte esogene, quindi creatina monogratone. Con questo video sulla creatina diciamo che abbiamo concluso il discorso. Il prossimo video lo faremo su un altro integratore molto importante che viene usato tipicamente nei cani da slitta, che è la carnitina. Andremo a vedere l'utilizzo, le funzioni, le quantità, le dosi e tutto quello che ci può servire per preparare il nostro cane a delle gare di endurance. Ciao a tutti!